Penso che a quest'ora del venerdì pomeriggio qui siamo riuniti prevalentemente tecnici fanatici, dice Gigi, del problema che abbiamo sul tavolo. Quindi io e Luciano vediamo di rispettare i tempi di star dentro i dieci minuti, un quarto d'ora, di star dentro le tre e mezza per aprire poi e passare la palla ai discussant della proposta che stiamo cominciando a costruire. La frontiera della quale ragioniamo ha il grande titolo della sostenibilità ma non c'è bisogno di economisti per affrontare il tema se non ci fosse un risvolto tradizionale dentro il nuovo titolo che è quello dello sviluppo. Siamo qui per ragionare di sviluppo economico, quindi di posti di lavoro, di investimenti che ritornano ricchezza, che accumulano patrimonio. L'idea è che la frontiera futura nella quale fare questo genere di investimenti, questo sforzo nei confronti dello sviluppo, la frontiera sia quella dello sviluppo sostenibile, quindi di strategie di investimento, di valorizzazione del patrimonio ambientale che abbiamo nei nostri territori in una direzione che è relativamente diversa da quella che abbiamo conosciuto nel Veneto, nella stagione in cui si è aperta la finestra della manifattura abbiamo potuto sviluppare il ruolo dei cinesi d'Europa e quindi, come dire, conquistare reddito e occupazione attraverso lo sviluppo di investimenti tradizionali. Siamo chiamati nei prossimi anni ad una svolta piuttosto decisiva. L'idea è che, ragionando da esperti di politiche dello sviluppo, dobbiamo cercare di evitare gli errori che abbiamo fatto con le politiche di sviluppo, anche quelle più recenti. Parlo, Gigi citava il caso delle IPA, io potrei ricordare la stagione dei patti territoriali piuttosto che quella dei distretti produttivi nel Veneto, è stata una stagione nella quale invece di mobilitare le risorse sane del territorio, di tirar fuori la capacità imprenditoriale che c'è, l'identità produttiva, tecnica dei nostri territori per rilanciare verso l'alto in nuove direzioni lo sviluppo, ci siamo, come dire, accontentati di mettere insieme delle coalizioni chiamiamole opportunistiche, distributive per dividere qualche piccola risorsa pubblica senza ottenere alcun effetto. Dobbiamo superare questa dimensione infelice e pensare appunto a nuovi strumenti di misura dell'efficacia, degli sforzi che facciamo come investitori privati e soprattutto come investitori collettivi. La prospettiva della green economy, della sostenibilità ci impone di ripensare soprattutto alle filiere di produzione dei beni comuni. I beni comuni non sono, come dire, regalati da nostro Signore, l'acqua non cade dal cielo o cade dal cielo, per l'amor di Dio, o le piante, vuol dire, si moltiplicano per via naturale ma la raccolta, il condizionamento, la produzione di acqua potabile, la gestione del territorio, la climatizzazione del territorio attraverso la coltivazione del verde pubblico o del verde che abbiamo nei boschi e nelle aree private, sono attività produttive che vanno congegnate, vanno organizzate in maniera tale da ottenere risultati, come dire, di alto livello. Per affrontare questi temi, pur essendo io e un altro gruppo di colleghi professionisti di varie discipline, provenendo da un'esperienza urbana, metropolitana, di produzione industriale, abbiamo deciso di ragionare sui temi della sostenibilità a partire dai territori non urbanizzati in particolare dai territori di montagna e abbiamo messo a punto un ragionamento, un sistema di linee guida, un protocollo di assistenza tecnica per i comuni di montagna che, come dire, vogliamo finalizzare alla produzione di nuovi investimenti nei territori di montagna o nelle zone della nostra sprawling metropolis, della nostra area metropolitana verde che è cantata nei poemi di Gigi Copiello. Nei poemi di Gigi, per fortuna abbiamo perso un sindacalista e abbiamo guadagnato un poeta, questo l'ho detto più volte, e come dire, guardando agli spazi vuoti dell'area in cui viviamo, che è un'area metropolitana ma che ha mantenuto ampi spazi vuoti non conquistati all'urbanizzazione tradizionale, guardando a questi spazi forse possiamo trovare lo spazio ispirandoci alla montagna, allo stile di vita, all'identità, al modo di fare economia in montagna, possiamo forse recuperare un'idea di investimento anche nei territori urbani che abbia senso. L'idea è nata così, l'idea di integrare fra di loro competenze tradizionali e nuove tecnologie lungo, o almeno all'interno di tre famiglie di prodotti innovativi che sono, in una sigla che io utilizzo da tempo, Green, Smart and Small, che significa tecnologie per ridurre i consumi energetici negli edifici come nei cicli industriali, che possono diventare Green, nel senso che possono essere orientati a produrre gli stessi prodotti o prodotti più sostenibili investendo meno energia e utilizzando meno risorse non riproducibili. Smart, che è la parola d'ordine di questi giorni, è ancora più importante, dobbiamo poter utilizzare al meglio le reti di energia, le reti di comunicazione per ottimizzare la gestione degli oggetti che abbiamo sul territorio e, da ultimo ma non meno importante, dobbiamo probabilmente guardare a un sistema di produzione di energia basato sui piccoli impianti distribuiti, non c'è più ragione ormai con le tecnologie che abbiamo a disposizione di concentrare la produzione di energia in grandi impianti, possiamo dedicarci allo sviluppo, alla realizzazione, all'impianto e poi alla razionalizzazione di impianti piccoli per la produzione di energia di diverso tipo. In questa prospettiva dobbiamo rivedere un pochino tutto il nostro sistema di organizzazione degli spazi pubblici, degli spazi residenziali che compete in larga misura ai sindaci ma anche degli spazi industriali e qui oggi l'idea è di discutere sul che cosa può accadere in questo territorio che è storicamente la culla dei settori industriali, in questo momento è capitale italiana della mecatronica piuttosto che del packaging, quindi dell'automazione industriale, capire come a partire dalle competenze che abbiamo dentro le fabbriche e sono poi distribuite nel territorio possiamo immaginare di declinare il concetto di green community, il concetto di innovazione all'interno utilizzando al meglio le specificità, le competenze, il ruolo, l'identità di questo territorio. Per fare questo il gruppo dei professionisti di cui vi parlavo ha messo a punto uno strumento simile a quello che poi commenterà Luciano che è un sistema di rating molto molto semplice quindi alla portata di qualsiasi sindaco o di qualsiasi cittadino, un sistema di rating della sostenibilità ovviamente economica, sociale ed energetica degli investimenti che si fanno sui 12 assi importanti del territorio che sono le risorse forestali, qui siamo in un territorio, una comunità green che si va formando che ha un patrimonio notevole magari in larga misura privato ma un patrimonio notevole dal punto di vista forestale e potrebbe svilupparne ancora, quindi risorse forestali, risorse agricole alimentari, biomasse o risorse alimentari che sono presenti nel territorio e la cosiddetta natura urbana. Nella zona industriale di Schio ci sono non so quanti ettari di territorio che oggi vengono lasciati a maggiese ma che potrebbero essere coltivati in una prospettiva di maggior rendimento per ettaro anche con un risparmio se non con un guadagno dal punto di vista del gestore pubblico. Governo delle risorse idriche, utilizziamo relativamente bene le nostre risorse idriche per l'industria e per l'alimentazione, stiamo usando malissimo le risorse idriche per l'agricoltura, ci sono grandi innovazioni possibili, produzione di energia da fonti rinnovabili locali attraverso piccoli impianti di cui vi parlavo, turismo, c'è un coefficiente di calcolo del carico turistico che un territorio può sopportare per rimanere sostenibile o come possa attirare flussi turistici a maggior valore aggiunto, gestione intelligente del patrimonio urbano, quindi del patrimonio abitativo pubblico e privato, efficientamento energetico delle strutture, sviluppo sostenibile delle attività produttive, significa un ripensamento delle zone industriali, è il caso di Mirandola in questi giorni, noi stiamo collaborando con questo protocollo con i nostri amici di Mirandola che dicono ma perché dobbiamo ricostruire il territorio esattamente come era prima, abbiamo avuto un'occasione straordinaria che abbiamo potuto fare tavola rasa nel nostro territorio, ripensiamolo alla luce dei progetti di sistema della nostra logica di distretto, facciamo di necessità virtù e vediamo anche di ripensare il sistema industriale non solo in termini di ristrutturazione energetica degli edifici di sostenibilità rispetto ai terremoti ma anche di integrazione con la parte residenziale. Poi c'è il discorso dei rifiuti, della gestione dei servizi di sicurezza e di assistenza sociale e i servizi di innovazione. L'idea è di mettere a disposizione dei sindaci un protocollo, cioè una serie di indicatori per ciascuno di questi assi che consenta, vi faccio degli esempi, di calcolare, di verificare quando l'investimento su qualcuno di questi assi è come dire efficiente, produce risultati coerenti nel breve termine dal punto di vista economico ma di adattamento del sistema di grande sostenibilità nel lungo e alla fine, ultimo ma non ultimo, il sistema di rating consente anche di valutare qual è la coerenza fra gli investimenti che si fanno su ciascun asse visto che ciascun asse concorre alla creazione di un patrimonio territoriale, di una identità unica. Quindi nel caso per esempio di un sistema come quello dell'Alto Vicentino c'è da capire se intanto qual è il futuro sviluppo, quali sono i prodotti, i processi che l'area industriale, che il settore industriale intende sviluppare in futuro per mantenere la sua competitività ma poi si può ridisegnare il sistema dell'acqua, il sistema idrico, il sistema dell'alimentazione energetica, il sistema della gestione delle biomasse eccetera in ragione di questa vocazione produttiva che emerge in modo tale da mettere in tensione positiva anche gli altri investimenti che si fanno sul territorio. Il protocollo mette a disposizione dei comuni, dei sindaci e delle imprese, delle loro associazioni, degli strumenti per misurare la qualità dell'investimento, quindi un rating come quello di Standard & Poor's tanto per essere concreti e linee guida per fare gli investimenti, per scegliere le tecnologie più adeguate e anche linee guida per capire qual è la coerenza dell'insieme. Io non voglio andare oltre perché entrare nei dettagli è prematuro, voglio solo richiamare l'attenzione di tutti su qual è il senso, fra virgolette, politico di un'operazione di questo genere. Siamo in una fase in cui, come dicevo prima, l'apparato istituzionale che abbiamo messo in piedi fino adesso, il sistema dei comuni, come dire, mostra tutte le sue debolezze proprio nella capacità di pianificazione. Siamo in un momento in cui questo sistema ha anche esaurito i fondi, in termini molto pratici, non può più distribuire e deve fare appello, come dire, alla capacità di investimento della comunità per riuscire a procedere con le proprie iniziative. A questo punto siamo in una situazione di grande difficoltà dal punto di vista della ristrutturazione amministrativa di questo Paese. Bene, l'idea è che a partire da un protocollo condiviso e dalla sperimentazione della sua applicazione in diversi territori sia possibile costruire una rete, quindi un sistema di trasferimento, di confronto delle conoscenze che oltre a servire ai sindaci, alle comunità come quella dell'Alto Vicentino che vogliono lavorare, che vogliono definire nuove strategie, possa servire anche all'Italia come polmone per la comunicazione tra tutti coloro che aderiscono a un progetto di Green Community, quelli che immaginano un sistema italiano capace di fare industria, di fare innovazione, come lo ha sempre fatto, però in una chiave originale, in una chiave verde, in una chiave nuova, anche dal punto di vista dell'amministrazione e del rapporto pubblico privato. Questa è un po' l'idea della rete italiana delle Green Communities. Allora qui ci siete voi che vi state dando da fare, io sto lavorando un po' nella zona di Arzignano con tutti i problemi che potete immaginare dal punto di vista della sostenibilità, Luciano è qui che ci racconta cosa succede nell'area del Padovano, poi ci sono i colleghi trentini del Primiero che già aderiscono a questa iniziativa, ci sono quattro territori del Sud, comincia piano piano emergere, ecco, una piccola rete spontanea dal basso di operatori che condividono un linguaggio e una prospettiva. Ecco, la ragione di fare rete diciamo che è questa qui. Adesso io lascio la parola a Luciano e anche ai relatori che vengono dopo, che hanno ricevuto un po' di materiali e li abbiamo spedito via mail in questi giorni, per vedere appunto qual è il tasso di condivisione di quest'idea e la percezione di quanto lavoro sia necessario fare per trasformare l'idea poi in strumenti concreti, operativi per le imprese e per i sindaci. Ecco, questa è la mia introduzione.